si ritrae forse onore gpd si ritrae anche frito cam dal centro schieramento parte bene falco font che in poche battute scende allo steccato alla corda davanti al compagno di training fenestrel font in terza posizione invece febbo caff a largo figo step subito lancio in 14 1 fenestrel font attacca falco or font e passa prima dell'imbocco della prima cuva figo step resta sempre a largo davanti a febbo caff quindi flashback e via via gli altri 29 1 il primo quarto figo step prova a portarsi con maggior incisività sul battistrada fenestrel font cavallo numero 3 squalificato e i 600 metri se ne vanno in 44 e 2 appaiati in lotta fenestrel font all'interno figo step a largo seguiti come un'ombra da falco or font vediamo il parziale di metà gara a 800 metri che vengono passati in meno di un minuto e prosegue la lotta tra fenestrel e figo con falco font ha un paio di lunghezze che prova a ricucire il gap gli altri a lunghezze il chilometro se ne va in 1 16 e 2 per il momento fenestrel l'ha respinto figo sembra un po' in calo falco or font lo stesso febbo caff prova a rinvenire da dietro forse onore insieme a frido cam si fa ingresso indirittura arrivo con fenestrel font che sembra poter controllare frigo step che comunque non perde di vista alla femmina guidata da antonino pecoraro che comunque da un allungo adesso all'ingresso indirittura arrivo e c'è lo scatto anche di frido cam in calo figo step è un discorso tra fenestrel font e frido cam che scatta bene a largo di tutti si avvicina palmo a palmo a fenestrel font la ciuffa ai 70 finali tende a passare e passa frido cam a segno davanti fenestrel font per il terzo figo step si salva da falco or font 2 7 1 19 e 4 il successo di frido cam il colori signor cam melo fancello il training gasparo verde andrea buzzitta da catch arrivo a rilento dopo un chilometro svelto da 1 16 praticamente si è finiti molto piano con 50 e mezzo per gli ultimi 600 metri al terzo è ancora farco or font in chiusura 3 22 desi o 330 don casser 405 domilaser 7 64 dakota ssm 8 e 77 dakota fanning tutti gli altri a doppia cifra dall'esterno coi è un bel lancio de mostene che però all'interno di balabi è ancora drusiana de mostene forse i tempi su dakota fanning e tende a passare dopo 200 metri in 13 spaccati il galoppo di diana clemari galoppo di dakota ssm il galoppo di don caster tanti in rottura sulla prima curva cavallo numero 14 squalificato 400 metri iniziali veloci in 27 e 2 è rimasta a largo di balabi ai fianchi di trusiana quindi ancora dante ssm via via tutti gli altri con desio che muove dal fondo del gruppo dakota fanning attacca don caster 42 900 metri e passa c'è la lunga centropista di desio che poche battute raggiunge dakota scavalca di balabi e si porta al comando proprio poco prima del paletto degli 800 metri metà gara passata in 58 virgole siamo sulla retta di fronte con desio leader su dakota fanning a largo muove di balabi si arriva al chilometro in 1.137 desio si è allargato è filtrato all'interno ancora una volta dakota fanning alle loro spalle de mostene di balabi in terza ruota domilaser in quarta diamante collo senza spazio all'interno trusiana si fa ingresso addirittura arrivo con dakota fanning che prova ad allungare de mostene che ha finalmente la destra libera arriva fortissimo a centropista diamante collo e in leggera crisi dakota fanning che comunque resta davanti de mostene va a sua caccia domilaser a largo insieme a diamante collo lotta a 4 filtra per vientenne anche trusiana 5 cavalli in un fazzoletto sembra essere diamante collo quella con le battute migliori attacca e passa proprio nel finale diamante collo su de mostene probabilmente da neri selle bigi due minuti appena abbondante 1 15 1 il successo di diamante collo a quota di 41 e 61 è una degli estremi outsider di questa corsa la porta colori del signor salvatore baiamonte il training quello di antonino pecoraro la guida da catch di luciano messineo tanti cavalli in un fazzoletto difficile di stricarsi favore prossimo in chiusura per energy clamor nei confronti di access club edwin torro e la scuderia formata da ercole forest e da eschimo lud manca poco allo stacco parte bene a largo e tienne griff all'interno prova la difesa ercole forest che scende alla corda a largo subito tienne griff il galoppo di endless joy cavallo numero 7 squalificato a largo resta eschimo lud dai fianchi del compagno di colori ercole forest cavallo affronta una prima curva avanza subito ma si getta di galoppo ester zs schiena in seconda paria troviamo invece il numero 6 di etienne griff si va sulla retta di fronte con le posizioni che restano invariate davanti c'è sempre etienne griff che precede il numero 4 di ercole forest per via interne prova a farsi sotto eschimo lud a largo c'è eschimo griff meno di un minuto a metà gara si fa fatica recuperata dalla posizione di retroguardia l'unico che ci prova è easy rider font primo chilometro in 1.147 con tienne griff che sta tenendo tutti sotto controllo ercole forest che dopo esser venuto via ritorna allo steccato davanti a eschimo lud non progredisce più di tanto esplosive prova a farsi vedere easy rider cavallo numero 2 poco incisiva per via interne trova da correre finalmente edwin thor che si lancia a largo nel frattempo etienne griff è sempre davanti ma deve arginare la minaccia di ercole forest ma soprattutto quella di edwin thor che scatta bene a largo si allarga un po' etienne griff buca di dentro ed eccole forest lo scatto di edwin thor l'allargo di tutti edwin thor davanti a ercole forest quindi l'otto scusate sei di etienne griff che non bellissimo in camminata ma il successo è quello di edwin thor uno e cinquantanove scarsi uno quattordici e tre francesco la rosa junior per il training di luciano mancuso i colori del signor michele punzo giallo azionato da parte della giuria la giuria prima di omologare l'arrivo quindi la certezza è successo di siamo giunti alla quarta corsa il premio pitagora che vede impegnati i gentleman con cavalli di categoria è riservata uno zarro pio nofrio tortorici due black bloccalo robartolomeo ingardia tre boemia ch sm michele adriano laporta quattro conquista dorbi maurizio cucinotta cinque zircoviacista giuseppe biondo sei abracadabra e ferro sario vaccaro sette bellucci griff michele la zara otto zabolfi piero cucinotta boemia ch 3 0 5 favorita in chiusura di contrattazione ma la partenza vede il gruppo che si è subito sfilacciato con diversi errori e così davanti black bloccalo che da strada conquista dorbi e poi una lunga fila indiana con il tentativo di bellucci griff di portarsi subito nelle prime posizioni seguito dal numero 6 di abracadabra f e così i 400 metri iniziali se ne vanno in 30 e 7 con bellucci griff che attacca conquista dorbi dietro black bloc affiancato da abracadabra ancora zarroppi zabolfi boemia chak a lunghezza è rimasta zircoviacis si fa ingresso sotto le tribune con il galoppo di boemia chak sm conquista dorbi numero 3 squalificato è sempre affiancato da bellucci griff si arriva agli 800 metri in rallentamento in 1 e 1 la seconda pariglia formata da black bloc e da abracadabra quindi zarropp scusate zircoviacis è il numero 8 di zabolfi chilometro in 1 17 e 4 tre pariglie conquista dorbi bellucci black bloc abracadabra quindi zircoviacis e zabolfi i 1.2 in 1.32 si ferma ancora adesso conquista dorbi sembra andare un po' via di gas perché bellucci griff resta ai fianchi di black bloc color che prova a liberarsi dalla seconda posizione 1.4 in 1.47 2 con conquista dorbi leader black bloc bellucci griff lo scatto di abracadabra che prova a portarsi subito sui primi parato prontamente da black bloc il meglio se ne va in 2 2 3 conquista dorbi sempre leader da largo c'è abracadabra di dentro black bloc poco reattivo quindi zircoviacis che si è liberato ancora più a largo lo scatto di zabulfi si entra addirittura arrivo con abracadabra che mette sotto pressione conquistador che prova a difendersi ma abracadabra tende a passare ma al centro pista c'è lo scatto di zabulfi e zircoviacis 4 cavalli tutti vicini non poco reattivo black bloc è passato abracadabra che adesso deve sostenere l'attacco di zabulfi a largo di tutti abracadabra è passato sul conquistador zabulfi si avvicina ma abracadabra tiene tutti a distanza e si impone a zabulfi conquistador zircoviacis è il 2 di black bloc color 2.46 e mezzo sul mio conometro siamo nell'ordine dell'1.15.6 sul doppio chilometro il successo di abracadabra F rosario vaccaro per il training di Antonino Pecoraro junior al secondo posto l'8 di zabulfi al terzo il compagno di zabulfi conquistador per un arrivo che dice 6-8-4 allineamento che si si è completato prima fila ben allineata tre soggetti in seconda fila tra i più attesi si parte dal centro dello schieramento parte molto forte Dancing Firm all'interno a Davidia quindi ancora da mità di venere è passato Dancing Firm davanti a Davidia e da mità di venere 12.5 di lancio Dreyfus B in anticipo su Dallas Spav quindi Don King Muttley mentre finito a tabellone del Monica Firm 400 metri iniziali molto veloci in 27 spaccati con Dancing Firm leader su Davidia da mità di venere in quarta posizione Dreyfus B quindi ancora Don King Muttley che prova a risalire 41.7 per i 600 metri iniziali e si muove così da mità di venere in anticipo proprio su Don King Muttley che va ad affiancare Dancing Firm 800 metri in 57.5 Don King Muttley comunque passa su Dancing Firm a traguardo lontano resta così scoperta da mità di venere quindi Davidia allo steccato si arriva all'imbocco alla curva finale un chilometro da 1.12.1 con Don King Muttley battistrada piuttosto agevole per il momento da mità a largo di Dancing Firm che non è molto brillante Dreyfus B che scatta in tezza ruota senza spazio Davidia si fa sotto anche Dallas Spav gli altri più indietro si entra in dittorrivo con King Muttley che prova all'allungo lo scatto di Dreyfus B seguito da Dallas Spav Don King Muttley è sempre una decina di metri avanti a tutti Dreyfus prova nell'inseguimento ad acciuffarlo però Don King sembra in totale controllo Dreyfus ci prova con generosità ma Don King Muttley lo tiene a bada e conclude sullo stesso per il terzo rinviene molto bene Daffy Dac a precedere Dallas Spav 1 55 e mezzo siamo nell'ordine dell'1 12 e 2 Don King Matte da favorito la porta a casa i colori sono quelli del signor Giuseppe Mangione il training di Antonino Pecoraro Antonino Pecoraro in cabine e regia ottimo secondo Dreyfus B davanti a Daffy Dac quindi 8 9 6 è l'arrivo della quinta di Siracusa Barnabas 3B 11 Crown Clamber 12 Crocodile Rock 13 commando in chiusura commando 2 56 favorito nei confronti di Creed Matt 3 34 Barnabas 3B 4 70 7 18 Ciuffolotto 7 42 Cran Clamber gli altri tutti in doppia cifra l'anamento che si è completato mancano 150 metri lo stacco della macchina si ritrae Cerny e Jet la prima fila prova a fare partenza l'errore anche di Ciuffolotto RL si parte parte molto bene Creed Matt al suo interno c'è Katherine Rek Creed Matt forse tempi e passa dopo 200 metri lancio in 13 e 4 in terza posizione Classic Star FKS a precedere Clipper Gams e via tutti gli altri diversi cavalli in rottura in fondo al gruppo si imbocca la prima curva cavallo numero 1 squalificato 400 metri di Creed Matt in 27 e 2 in seconda posizione cavallo numero 8 resta sempre Cater in Rek a precedere Classic Star FKS si va sulla retta di fronte 600 metri iniziali in 43 9 Classic Star si muove dalla terza posizione va a largo ed è seguito come un'ombra dal numero 10 di Barnaba 3B scusate dal numero 11 di Crown Klemmer un minuto a metà gara posizioni che cambiano poco Classic Star si porta più vicino al Creed Mattley serviamo a tagliare la meta del primo chilometro in 1 15 5 Creed Mattley e Classic Star appaiati in terza prova a Crown Klemmer in calo invece Caterine Recca affiancata da Clipper Gams a largo di tutti il 10 di Barnaba 3B 4 cavalli a ventaglio commando cerca di ricucire il gap si lancia all'inseguimento del 4 Creed Mattley Classic Star Crown Klemmer e Barnaba 3B quindi ancora Clipper Gams commando passa netta Classic Star deve difendersi da Crown Klemmer e soprattutto da Barnaba 3B Classic Star e palo è vicino Crown Klemmer attacca attacca anche Barnaba 3B e sul palo Classic Star FKS davanti a Barnaba 3B Clipper Gams Crown Klemmer 1 58 siamo nell'ordine l'1 13 9 il successo di Classic Star FKS i colori del signor Fulvio Fasano il training di Lorenzo Larrosa da catch Massimo Zanca si difende dall'attacco finale di Barnaba 3B per via interna Clipper Gams soffia il terzo posto a Crown Klemmer vediamo il quinto arrivato grazie a Ralenty per darvi il quintè è il numero 13 di commando